Ne mai più toccherò le sacre sponde ove il mio corpo, fanciulletto giacque. Amici di Posti che vado, da come avete capito da questi bellissimi versi del poeta Gotofolo, ci troviamo a Zante, quella che un tempo si chiamava Zaccinto. Invece no, ci troviamo a Voghera, precisamente in Piazza del Duomo. Ecco, Piazza del Duomo Voghera è anche volgarmente detta Piazza Duomo. Ciò mette in difficoltà chi arriva da fuori Voghera perché non capisce se Piazza Duomo è detta Piazza Duomo perché c'è il Duomo oppure Piazza D'Uomo, cioè dedicata all'uomo. Però basta rivolgere lo sguardo verso il centro della piazza per togliere i segni dubbi e vedere il magnifico Duomo di Voghera. Ecco, pensate, il Duomo di Voghera è stato inaugurato alle 14.43 del 17 gennaio di un botto di anni fa. E pensate che il primo prete a celebrare la messa nel magnifico Duomo di Voghera è stato il famosissimo Don Chuck Castoro. Ecco, avviciniamoci al Duomo che è anche detta la Notre Dame del Cazzo. Bellissimo architettonicamente, un ingresso imponente. Ecco, la strada che ci porta al Duomo di Voghera, come vedete, è fatta di ciottolato. Ciottolato assolutamente da non confondersi con il cioccolato. Perché evidentemente, pensate, ho finito di mangiare e mi mangio una bella tavoletta di ciottolato. Cioè, no, è dura, vi spaccate i denti. Oppure, ammetti che la giunta, il comune di Voghera si è fatto questa pavimentazione di cioccolato. Cioè, non è che poi d'estate si scioglieva, tu venivi qua, ti sporcavi le scarpe, allora tutti i diranno, guardate il comune di Voghera che ha fatto la pavimentazione di cioccolato, guardate qua. Allora, io voglio spendere una parola nei confronti del sindaco, fare un complimento alla giunta e dire, bravi, bravi, perché non vi siete fatti fottere e avete fatto la pavimentazione di ciottolato invece che il cioccolato. Non è da tutti. Ecco, quale può essere un difetto della piazza del Duomo di Voghera? Ecco, d'inverno fa un po' freddo. D'inverno fa freddo, ma noi abbiamo un rimedio, assolutamente. Contro il freddo, cappuccio e brioche. Ecco, tirando le somme, cosa possiamo dire della piazza del Duomo di Voghera? Un bellissimo duomo, un bellissimo ciottolato, una buissima brioche. In conseguenza possiamo dire che la piazza del Duomo di Voghera è un posto bello. Grazie. 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 Grazie.